Giornata di festa per la storica pizzeria Capasso che affaccia su Porta San Gennaro in Via Furia, perché oggi il capostipite Vincenzo compie 90 anni, diventando di fatto il pizzaiolo più anziano della città. Una storia di tradizioni che si tramandano dal 1847 e che ha visto alternarsi negli anni intere generazioni di pizzaioli. Oggi la pizzeria, che ha ospitato personaggi illustri come Totò, è gestita con la stessa passione dal figlio Giovanni ed il nipote Paolo Vincenzo e fa parte dell'unione delle pizzerie centenarie impegnate a salvaguardare l'autenticità della pizza napoletana e le sue tradizioni. In occasione del novantesimo compleanno anche il sindaco Luigi De Magistris è passato a fare gli auguri a Don Vincenzo, consegnandogli in segno di riconoscimento, una targa con la medaglia della città. Come segno di affetto, di gratitudine, di simpatia per un pizzaiolo storico della nostra città, Vincenzo Capasso, qui in una delle pizzerie più note della città, che fa un'ottima pizza tra l'altro. E poi credo che è importante che la città dia un riconoscimento a chi rappresenta uno dei tratti caratterizzanti della nostra città, della nostra gastronomia e non solo gastronomia che la pizza, perché pizza è cultura, è vita, è comunità, è storia, adesso anche patrimonio unisco, quindi è un riconoscimento assolutamente meritato e ho visto anche il signor Vincenzo circondato da tanto affetto, quindi una bella giornata per lui e per la pizza della nostra città.